Sei la moglie e l'amante Nella mia vita ci furono vari periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze, e poi qualche settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì. Io amavo Augusta come essa amava me. Da prima diffidente godevo intanto di una giornata e mi aspettavo che la seguente fosse tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche, ciò che era la sorpresa, mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto, e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva. —Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pure io, che sono tanto più ignorante di te? Non so più se dopo o prima dell'affetto nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta, che era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non avevo neppure intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo, e poi Ada e Guido. La lampa da petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta, altro che il suo rossore. Quando questo sparve con la semplicità con cui i colori dell'aurora spariscono alla luce diretta del sole, Augusta battè sicura la via per cui erano passate le sue sorelle su questa terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine, o che altrimenti a tutto rinunziano. Per quanto la sapessi malfondata, perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo. Questo poteva essere, e poteva perciò esistere, anche la fede nella vita. Però mi svalordiva. Da ogni sua parola, da ogni suo atto, risultava che in fondo essa credeva la vita eterna, non che la dicesse tale. Si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargli nella brevità. Ma che? Essa sapeva che tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai che eravamo sposati si sarebbe rimasti insieme. 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 Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, 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 che non si intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu, dopo di non essersi conosciuti per un tempo infinito, e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana, quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia, ed io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me s'era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo muovermi come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la terra girava, non occorreva mica avere il mal di mare. Tutt'altro. La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un'importanza enorme. L'anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa, e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente, e anche quelle del sonno. Esistevano quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. Di domenica essa andava a messa, e io ve l'accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi che essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso, mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. C'era un mondo di autorità, anche qua giù, che la rassicuravano. Intanto quella austriaca, o italiana, che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case, ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi verano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studi regolari per salvarci quando, Dio non voglia, ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell'autorità. Lei invece mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale mi avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e qua giù, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco, perché m'accorgo che analizzandola la converto in malattia, e scrivendone comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o distruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. Quale importanza mi era attribuita in quel suo piccolo mondo? Dovevo dire la mia volontà ad ogni proposito, per la scelta dei cibi e delle vesti, delle compagnie e delle letture. Ero costretto ad una grande attività che non mi seccava. Stavo collaborando alla costruzione di una famiglia patriarcale, e diventavo io stesso il patriarca che avevo odiato, e che ora mi appariva quale il segnacolo della salute. È tutt'altra cosa essere il patriarca o dover venerare un altro che s'arroghi tale dignità. Io volevo la salute, per me, a costo d'appioppare ai non patriarchi la malattia, e specialmente durante il viaggio assunsi talvolta volentieri l'atteggiamento di statua equestre. Ma già in viaggio non mi fu sempre facile l'imitazione che m'ero proposta. Augusta voleva vedere tutto come se si fosse trovata in un viaggio d'istruzione. Non bastava mica essere stati a Palazzo Pitti, ma bisognava passare per tutte quelle innumerevoli sale, fermandosi almeno per qualche istante dinanzi ad ogni opera d'arte. Io rifiutai d'abbandonare la prima sala, e non vidi altro, addossandomi la sola fatica di trovare dei pretesti alla mia infingardaggine. Passai una mezza giornata dinanzi ai ritratti dei fondatori di Casa Medici, e scopersi che somigliavano a Carnegie e Vanderbilt. Meraviglioso. Eppure erano della mia razza. Augusta non divideva la mia meraviglia. Sapeva che cosa fossero i Yankees, ma non ancora bene chi fossi io. Qui la sua salute non la vinse, ed essa dovette rinunziare ai musei. Le raccontai che una volta all'Uvra mi imbizzarrì talmente in mezzo a tante opere d'arte che fu in procinto di mandare in pezzi la Venere. Rassegnata, Augusta disse. Meno male che i musei si incontrano in viaggio di nozze, e poi mai più. Infatti nella vita manca la monotonia dei musei. Passano i giorni capaci di cornice, ma sono ricchi di suoni che frastornano, e poi, oltre che di linee e di colori, anche di vera luce, di quella che scotta, e perciò non annoia. La salute spinge all'attività e ad addossarsi un mondo di seccature. Chiusi i musei, cominciarono gli acquisti. Essa, che non vi aveva mai abitato, conosceva la nostra villa meglio di me, e sapeva che in una stanza mancava uno specchio, in un'altra un tappeto, e che in una terza aveva il posto per una statuina. Comperò i mobili di un intero salotto, e da ogni città in cui soggiornammo fu organizzata almeno una spedizione. A me pareva che sarebbe stato più opportuno e meno fastidioso di fare tutti quegli acquisti a Trieste. Ecco che dovevamo pensare alla spedizione, all'assicurazione e alle operazioni doganali. —Ma tu non sai che tutte le merci devono viaggiare? Non sei un negoziante, tu? E rise. Aveva quasi ragione. Obiettai. Le merci si fanno viaggiare per vendere e guadagnare. Mancando quello scopo si lasciano tranquille e si sta tranquilli. Ma l'intraprendenza era una delle cose che in lei più amavo. Era deliziosa quell'intraprendenza così ingenua. Ingenua perché bisogna ignorare la storia del mondo per poter credere di aver fatto un buon affare col solo acquisto di un oggetto. È alla vendita che si giudica l'accortezza dell'acquisto. Credevo di trovarmi in piena convalescenza. Le mie lesioni si erano fatte meno velenose. Fu da allora che l'atteggiamento mio immutabile fu di lietezza. Era come un impegno che in quei giorni indimenticabili avessi preso con Augusta, e fu l'unica fede che non violai che per brevi istanti, quando cioè la vita rise più forte di me. La nostra fu e rimase una relazione sorridente, perché io sorrisi sempre di lei, che credevo non sapesse, e lei di me, cui attribuiva molta scienza e molti errori che essa, così si lusingava, avrebbe corretti. Io rimasi apparentemente lieto, anche quando la malattia mi riprese intero. Lieto come se il mio dolore fosse stato sentito da me quale un solletico. Nel lungo cammino traverso l'Italia, adonta della mia nuova salute, non andai immune da molte sofferenze. Eravamo partiti senza lettere di raccomandazione, e spessissimo a me parve che molti degli ignoti fra cui ci muovevamo mi fossero nemici. Era una paura ridicola, ma non sapevo vincerla. Potevo essere assaltato, insultato e soprattutto calugnato, e chi avrebbe potuto proteggermi? Ci fu anche una vera crisi di questa paura, della quale per fortuna nessuno, neppure Augusta, s'accorse. Usavo prendere quasi tutti i giornali che m'erano offerti sulla via. Fermatomi un giorno davanti al banco di un giornalaio, mi venne il dubbio che egli, per odio, avrebbe potuto facilmente farmi arrestare come un ladro, avendo io preso da lui un solo giornale, e tenendone molti sotto il braccio, comperati altrove e neppure aperti. Corsi via, seguito da Augusta, a cui non dissi la ragione della mia fretta. Mi legai d'amicizia con un vetturino e un cicerone, in compagnia dei quali ero almeno sicuro di non poter essere accusato di furti ridicoli. Fra me e il vetturino c'era qualche evidente punto di contatto. Egli amava molto i vini dei castelli, e mi raccontò che ad ogni tratto gli si gonfiavano i piedi. Andava allora all'ospedale, e guarito, ne veniva congedato con molte raccomandazioni di rinunziare al vino. Egli allora faceva un proposito che diceva ferreo, perché per materializzarlo lo accompagnava con un nodo che gli allacciava la catena di metallo del suo orologio. Ma quando io lo conobbi, la sua catena gli pendeva sul panciotto, senza nodo. Lo invitai di venire a stare con me a Trieste. Gli descrissi il sapore del nostro vino, tanto differente da quello del suo, per assicurarlo dell'esito della drastica cura. Non ne volle sapere, e rifiutò con una faccia in cui vera già stampata la nostalgia. Col cicerone mi legai perché mi parve fosse superiore ai suoi colleghi. Non è difficile sapere di storia molto più di me, ma anche Augusta, con la sua esattezza e col suo bedeker, verificò l'esattezza di molte sue indicazioni. Intanto era giovine, e si andava di corsa attraverso i viali seminati di statue. Quando perdetti quei due amici, abbandonai Roma. Il vetturino, avendo avuto da me tanto denaro, mi fece vedere come il vino gli attaccasse qualche volta anche la testa, e ci gettò contro una solidissima antica costruzione romana. Il cicerone poi si pensò un giorno di asserire che gli antichi romani conoscevano benissimo la forza elettrica e ne facessero largo uso. Declamò anche dei versi latini che dovevano farne fede. Ma mi colse allora un'altra piccola malattia da cui non dovevo più guarire. Una cosa da niente. La paura di invecchiare e soprattutto la paura di morire. Io credo abbia avuto origine da una speciale forma di gelosia. L'invecchiamento mi faceva paura solo perché mi avvicinava alla morte. Finché ero vivo, certamente Augusta non mi avrebbe tradito, ma mi figuravo che non appena morto e sepolto, dopo di aver provveduto a che la mia tomba fosse tenuta in pieno ordine e mi fossero dette le messe necessarie, subito essa si sarebbe guardata dintorno per darmi il successore che s'avrebbe circondato del medesimo mondo sano e regolato che ora beava me. Non poteva mica morire la sua bella salute, perché ero morto io. Avevo una tale fede in quella salute che mi pareva non potesse perire che sfracellata sotto un intero treno in corsa. Mi ricordo che una sera, a Venezia, si passava in gondola per uno di quei canali dal silenzio profondo, ad ogni tratto interrotto dalla luce e dal rumore di una via che su di esso improvvisamente s'apre. Augusta, come sempre, guardava le cose e accuratamente le registrava. Un giardino verde fresco che sorgeva da una base sucida lasciata all'aria dall'acqua che s'era ritirata. Un campanile che si rifletteva nell'acqua torbida. Una viuzza lunga e oscura con in fondo un fiume di luce e di gente. Io invece, nell'oscurità, sentivo con piano sconforto me stesso. Le dissi del tempo che andava via e che presto essa avrebbe rifatto quel viaggio di nozze con un altro. Io ne ero tanto sicuro che mi pareva di dirle una storia già avvenuta, e mi parve fuori di posto che essa si mettesse a piangere per negare la verità di quella storia. Forse m'aveva capito male e credeva io le avessi attribuita l'intenzione di uccidermi. Tutt'altro. Per spiegarmi meglio, le descrissi un mio eventuale modo di morire, le mie gambe, nelle quali la circolazione era certamente già povera, si sarebbero incancrenite e la cancrena dilatata, dilatata, sarebbe giunta a toccare un organo qualunque, indispensabile per poter tenere aperti gli occhi. Allora li avrei chiusi, e addio patriarca, sarebbe stato necessario stamparne un altro. Essa continuò a singhiozzare, e a me quel suo pianto, nella tristezza enorme di quel canale, parve molto importante. Era forse provocato dalla disperazione per la visione esatta di quella sua salute atroce? Allora tutta l'umanità avrebbe singhiozzato in quel pianto. Poi invece seppi che essa neppur sapeva come fosse fatta la salute. La salute non analizza se stessa, e neppur si guarda nello specchio. Solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi. Fu allora che essa mi raccontò di avermi amato prima di avermi conosciuto, ma aveva amato da che aveva sentito il mio nome, presentato da suo padre in questa forma. Zeno Cosini, un ingenuo, che faceva tanto d'occhi quando sentiva parlare di qualunque accorgimento commerciale, e s'affrittava a prenderne nota in un libro di comandamenti, che però smarriva. E se io non m'ero accorto della sua confusione al nostro primo incontro, ciò doveva far credere che fossi stato confuso anch'io. Mi ricordai che al vedere Augusta ero stato distratto dalla sua bruttezza, visto che m'ero atteso di trovare in quella casa le quattro fanciulle dall'iniziale in A, tutte bellissime. Apprendevo ora che essa mamava da molto tempo, ma che cosa provava ciò? Non le diedi la soddisfazione di ricredermi. Quando fossi stato morto, essa ne avrebbe preso un altro. Mitigato il pianto, essa si appoggiò ancora meglio a me, e subito ridendo mi domandò. — Dove troverei il tuo successore? Non vedi come sono brutta? Infatti, probabilmente, mi sarebbe stato concesso qualche tempo di putrefazione tranquilla. Ma la paura di invecchiare non mi lasciò più, sempre per la paura di consegnare ad altri mia moglie. Non s'attenuò la paura quando la tradì, e non s'accrebbe neppure per il pensiero di perdere nello stesso modo l'amante. Era tutt'altra cosa, che non aveva niente a che fare con l'altra. Quando la paura di morire m'assillava, mi rivolgevo ad Augusta per averne conforto, come quei bambini che porgono al bacio della mamma la manina ferita. Essa trovava sempre delle nuove parole per confortarmi. In viaggio di nozze mi attribuiva ancora trent'anni di gioventù, ed oggi di altrettanti. Io, invece, sapevo che già le settimane di gioia del viaggio di nozze mi avevano sensibilmente accostato alle smorfie orribili dell'agonia. Augusta poteva dire quello che voleva, il conto era presto fatto. Ogni settimana io mi vi accostavo di una settimana. Quando m'accorsi di essere colto troppo spesso dallo stesso dolore, evitai di stancarla col dirle sempre le stesse cose, e per avvertirla del mio bisogno di conforto bastò mormorassi. Povero Cosini. Ella sapeva allora esattamente cosa mi turbava, e accorreva a coprirmi del suo grande affetto. Così riuscì ad avere il suo conforto anche quando ebbi tutt'altri dolori. Un giorno, ammalato dal dolore di averla tradita, mormorai per svista. Povero Cosini. Ne ebbi gran vantaggio, perché anche allora il suo conforto mi fu prezioso. Ritornato dal viaggio di nozze, ebbi la sorpresa di non aver mai abitata una casa tanto comoda e calda. A Augusta vi introdusse tutte le comodità che aveva avute nella propria, ma anche molte altre che essa stessa inventò. La stanza da bagno, che a memoria d'uomo era stata sempre in fondo a un corridoio, a mezzo chilometro dalla mia stanza da letto, si accostò alla nostra, e fu fornita di un numero maggiore di getti d'acqua. Poi una stanzuccia accanto al tinello fu convertita in stanza da caffè. Imbottita di tappeti e addobbata da grandi poltrone in pelle, vi soggiornavamo ogni giorno per un'oretta dopo colazione. Contro mia voglia vi era tutto il necessario per fumare. Anche il mio piccolo studio, per quanto io lo difendessi, subì delle modificazioni. Io temevo che i mutamenti me lo rendessero odioso, e invece subito mi accorsi che solo allora era possibile viverci. Essa dispose la sua illuminazione in modo che potevo leggere seduto al tavolo, sdraiato sulla poltrona o coricato sul sofà. Persino per il violino fu provveduto un leggio con la sua brava lampadina, che illuminava la musica senza ferire gli occhi. Anche Colà, e contro mia voglia, fui accompagnato da tutti gli ordigni necessari per fumare tranquillamente. Perciò in casa si costruiva molto, e c'era qualche disordine che diminuiva la nostra quiete. Per lei, che lavorava per l'eternità, il breve incomodo poteva non importare, ma per me la cosa era ben diversa. Mi opposi energicamente quando le venne il desiderio di impiantare nel nostro giardino una piccola lavanderia, che implicava addirittura la costruzione di una casuccia. Augusta asseriva che la lavanderia in casa era una garanzia della salute dei bebè. Ma intanto i bebè non c'erano, ed io non vedevo alcuna necessità di lasciarmi incomodare da loro prima ancora che arrivassero. Ella, invece, portava nella mia vecchia casa un istinto che veniva dall'aria aperta, e, in amore, somigliava alla rondinella che subito pensa al nito. Ma anch'io facevo all'amore, e portavo a casa fiori e gemme. La mia vita fu del tutto mutata dal mio matrimonio. Rinunziai, dopo un debole tentativo di resistenza, a disporre al mio piacere del mio tempo, e m'acconciai al più rigido orario. Sotto questo riguardo la mia educazione ebbe un esito splendido. Un giorno, subito dopo il nostro viaggio di nozze, mi lasciai innocentemente trattenere dall'andare a casa a colazione, e, dopo di aver mangiato qualche cosa in un bar, restai fuori fino alla sera. Rientrato a notte fatta, trovai che Augusta non aveva fatto colazione ed era disfatta dalla fame. Non mi fece alcun rimprovero, ma non si lasciò convincere d'aver fatto male. Dolcemente, ma risoluta, dichiarò che se non fosse stata avvisata prima, mi avrebbe atteso per la colazione fino all'ora del pranzo. Non c'era da scherzare. Un'altra volta mi lasciai indurre, da un amico, a restar fuori di casa fino alle due di notte. Trovai Augusta che m'aspettava e che batteva i denti dal freddo, avendo trascurata la stufa. Ne seguì anche una sua lieve indisposizione, che rese indimenticabile la lezione inflittami. Un giorno vogli farle un altro grande regalo, lavorare. Essa lo desiderava, ed io stesso pensavo che il lavoro sarebbe stato utile per la mia salute. Si capisce che è meno malato chi ha poco tempo per esserlo. Andai al lavoro, e se non vi restai, non fu davvero colpa mia. Vi andai coi migliori propositi e con vera umiltà. Non reclamai di partecipare alla direzione degli affari, e domandai invece di tenere intanto il libro mastro. Davanti al grosso libro, in cui le scritturazioni erano disposte con la regolarità di strade e case, mi sentii pieno di rispetto, e cominciai a scrivere con mano tremante. Il figliuolo dell'Olivi, un giovinotto sobriamente elegante, occhialuto, dotto di tutte le scienze commerciali, assunse la mia istruzione, e di lui davvero non ho da lagnarmi. Mi diede qualche seccatura con la sua scienza economica e la teoria della domanda e dell'offerta, che a me pareva più evidente di quanto egli non volesse ammettere. Ma si vedeva in lui un certo rispetto per il padrone, ed io gliene ero tanto più grato, in quanto non era ammissibile che l'avessi appreso da suo padre. Il rispetto della proprietà doveva far parte della sua scienza economica. Non mi rimproverò già mai gli errori di registrazione che spesso facevo, solo era incline ad attribuirli ad ignoranza, e mi dava delle spiegazioni che veramente erano superflue. Il male si è che, a forza di guardare gli affari, mi venne la voglia di farne. Nel libro, con grande chiarezza, arrivai a raffigurare la mia tasca, e quando registravo un importo nel dare dei clienti, mi pareva di tenere in mano, invece della penna, il bastoncino del croupier, che raccoglie i denari sparsi sul tavolo da gioco. Il giovine Olivi mi faceva anche vedere la posta che arrivava, ed io la leggevo con attenzione e, devo dirlo, in principio con la speranza di intenderla meglio degli altri. Un'offerta comunissima conquistò un giorno la mia attenzione appassionata. Anche prima di leggerla sentii muoversi nel mio petto qualche cosa che subito riconobbi come l'oscuro presentimento che talvolta veniva a trovarmi al tavolo da gioco. È difficile descrivere tale presentimento. Esso consiste in una certa dilatazione dei polmoni, per cui si respira con volutà l'aria, per quanto sia affumicata. Ma poi c'è di più. Sapete subito che quando avrete raddoppiata la posta, starete ancora meglio. Però ci vuole della pratica per intendere tutto questo. Bisogna essersi allontanati dal tavolo da gioco con le tasche vuote e il dolore di averlo trascurato. Allora non sfugge più. E quando lo si ha trascurato, non c'è più salvezza per quel giorno, perché le carte si vendicano. Però al tavolo verde è assai più perdonabile di non averlo sentito che dinanzi al tranquillo libromastro, ed infatti io lo percepii chiaramente, mentre gridava in me. Compera subito quella frutta secca. Ne parlai con tutta mitezza all'olivi, naturalmente senza accennare della mia ispirazione. L'olivi rispose che quegli affari non li faceva che per conto di terzi, quando poteva realizzare un piccolo beneficio. Così egli eliminava dai miei affari la possibilità dell'ispirazione, e la riservava ai terzi. La notte rafforzò la mia convinzione. Il presentimento era dunque in me. Respiravo tanto bene da non poter dormire. Augusta sentì la mia inquietudine, e dovetti dirgliene la ragione. Essa ebbe subito la mia stessa ispirazione, e nel sonno arrivò a mormorare. —Non sei forse il padrone? Vero è che alla mattina, prima che uscissi, mi disse impensierita. —A te non conviene di indispettire l'olivi. Vuoi che ne parli al babbo? —Non lo vogli, perché sapevo che anche Giovanni dava assai poco peso alle ispirazioni. Arrivai all'ufficio ben deciso di battermi per la mia idea, anche per vendicarmi dell'insonnia sofferta. La battaglia durò fino a mezzodì, quando spirava il termine utile per accettare l'offerta. L'olivi restò irremovibile, e mi saldò con la solita osservazione. —Lei vuole forse diminuire le facoltà attribuitemi dal defunto suo padre? Risentito, ritornai per il momento al mio mastro, ben deciso di non ingerirmi più di affari. Ma il sapore dell'uva sultanina mi restò in bocca, ed ogni giorno al tergesteo mi informavo del suo prezzo. Di altro non mi importava. Salì lento, lento come se avesse avuto bisogno di raccogliersi per prendere lo slancio. Poi in un giorno solo fu un balzo formidabile in alto. Il raccolto era stato miserabile, e lo si sapeva appena ora. Strana cosa l'ispirazione. Essa non aveva previsto il raccolto scarso, ma solo l'aumento di prezzo. Le carte si vendicarono. Intanto io non sapevo restare al mio mastro, e perdetti ogni rispetto per i miei insegnanti. Tanto più che ora l'olivi non pareva tanto sicuro di aver fatto bene. Io risi e derisi. Fu la mia occupazione principale. Arrivò una seconda offerta dal prezzo quasi raddoppiato. L'olivi, per rabbonirmi, mi domandò consiglio, ed io, trionfante, dissi che non avrei mangiata l'uva a quel prezzo. L'olivi, offeso, mormorò. Io m'attengo al sistema che seguì per tutta la mia vita, e andò in cerca del compratore. Ne trovò uno per un quantitativo molto ridotto, e sempre con le migliori intenzioni, ritornò da me, e mi domandò esitante. La copro, questa piccola vendita? Rispose, sempre cattivo. Io l'avrei coperta prima di farla. Finì che l'olivi perdette la forza della propria convinzione, e lasciò la vendita scoperta. Le uve continuarono a salire, e noi si perdette tutto quello che sul piccolo quantitativo si poteva perdere. Ma l'olivi si arrabbiò con me, e dichiarò che aveva giocato solo per compiacermi. Il furbo dimenticava che io l'avevo consigliato di puntare sul rosso, e che egli, per farmela, aveva puntato sul nero. La nostra lite fu insanabile. L'olivi si appellò a mio suocero, dicendogli che fra lui e me la ditta sarebbe stata sempre danneggiata, e che se la mia famiglia lo desiderava, egli e suo figlio si sarebbero ritirati per lasciarmi il campo libero. Mio suocero decise subito in favore dell'olivi. Mi disse. L'affare della frutta secca è troppo istruttivo. Siete due uomini che non potete stare insieme. Ora, chi ha da ritirarsi? Chi senza l'altro avrebbe fatto un solo buon affare, o chi da mezzo secolo dirige da solo la casa? Anche Augusta fu indotta dal padre a convincermi di non ingerirmi più nei miei propri affari. —Pare che la tua bontà e la tua ingenuità, mi disse, ti rendano disadatto agli affari. Resta a casa con me. Io, irato, mi ritirai nella mia tenda, ossia nel mio studiolo. Per qualche tempo le giocchiai e suonai, poi sentì il desiderio di una attività più seria, e poco mancò non ritornassi alla chimica e poi alla giurisprudenza. Infine, e non so veramente perché, per qualche tempo mi dedicai agli studi di religione. Mi parve di riprendere lo studio che avevo iniziato alla morte di mio padre. Forse questa volta fu per un tentativo energico di avvicinarmi ad Augusta e alla sua salute. Non bastava andare a messa con lei. Io dovevo andarci altrimenti, leggendo cioè Renan e Strauss, il primo condiletto, il secondo sopportandolo come una punizione. Ne dico qui solo per rilevare quale grande desiderio mi attaccasse ad Augusta. E lei questo desiderio non indovinò, quando mi vide nelle mani i Vangeli in edizione critica. Preferiva l'indifferenza alla scienza, e così non seppe apprezzare il massimo segno d'affetto che le avevo dato. Quando, come soleva, interrompendo la sua toaletta o le sue occupazioni in casa, s'affacciava alla porta della mia stanza per dirmi una parola di saluto, vedendomi chino su quei testi, torceva la bocca. Sei ancora con quella roba? La religione di cui Augusta bisognava non esigeva del tempo per acquisirsi o per praticarsi. Un inchino e l'immediato ritorno alla vita. Nulla di più. Da me la religione acquistava tutt'altro aspetto. Se avessi avuto la fede vera, io a questo mondo non avrei avuto che quella. Poi, nella mia stanzetta, magnificamente organizzata, venne talvolta la noia. Era piuttosto un'ansia, perché proprio allora mi pareva di sentirmi la forza di lavorare. Ma stavo aspettando che la vita mi avesse imposto qualche compito. Nell'attesa uscivo frequentemente e passavo molte ore al tergesteo o in qualche caffè. Vivevo in una simulazione di attività. Un'attività noiosissima. La visita di un amico d'università, che aveva dovuto rimpatriare in tutta furia da un piccolo paese dell'Astiria per curarsi di una grave malattia, fu la mia nemesi, benché non ne avesse avuto l'aspetto. Arrivò a me dopo di aver fatto a Trieste un mese di letto, che era valso a convertire la sua malattia, una nefrite, da acuta in cronica e probabilmente inguaribile. Ma egli credeva di star meglio, e s'apprestava lietamente a trasferirsi subito, durante la primavera, in qualche luogo dal clima più dolce del nostro, dove s'aspettava di essere restituito alla piena salute. Gli fu fatale, forse, di essersi indugiato troppo nel rude luogo natio. Io considero la visita di quell'uomo tanto malato, ma lieto e sorridente, come molto nefasta per me. Ma forse ho torto. Essa non segna che una data nella mia vita, per la quale bisognava pur passare. Il mio amico, Enrico Kopler, si stupì che io nulla avessi saputo né di lui né della sua malattia, di cui Giovanni doveva essere informato. Ma Giovanni, da che era malato anche lui, non aveva tempo per nessuno, e non me ne aveva detto niente, adonta che ogni giorno di sole venisse nella mia villa per dormire qualche ora all'aria aperta. Fra due malati si passò un pomeriggio lietissimo. Si parlò delle loro malattie, ciò che costituisce il massimo svago per un malato, ed è una cosa non troppo triste per i sani che stanno a sentire. Ci fu solo un dissenso, perché Giovanni aveva bisogno dell'aria aperta, che all'altro era proibita. Il dissenso si dileguò quando si levò un po' di vento, che indusse anche Giovanni di restare con noi nella piccola stanza calda. Il Kopler ci raccontò della sua malattia, che non dava dolore, ma toglieva la forza. Soltanto ora che stava meglio, sapeva quanto fosse stato malato. Parlò delle medicine che gli erano state propinate, e allora il mio interesse fu più vivo. Il suo dottore gli aveva consigliato, fra altro, un efficace sistema per procurargli un lungo sonno, senza perciò avvelenarlo con veri sonniferi. Ma questa era la cosa di cui io avevo soprattutto bisogno. Il mio povero amico, sentendo il mio bisogno di medicine, si lusingò per un istante che io potessi essere affetto della stessa sua malattia, e mi consigliò di farmi vedere, ascoltare e analizzare. Augusta si mese a ridere di cuore, e dichiarò che io non ero altro che un malato immaginario. Allora, sul volto emaciato del Kopler, passò qualche cosa che somigliava ad un risentimento. Subito, virilmente, si liberò dallo stato di inferiorità a cui pareva fosse condannato, aggredendomi con grande energia. Malato immaginario? Ebbene, io preferisco di essere un malato reale. Prima di tutto, un malato immaginario è una mostruosità ridicola, e poi per lui non esistono dei farmachi, mentre la farmacia, come si vede in me, ha sempre qualche cosa di efficace per noi malati veri. La sua parola sembrava quella di un sano, ed io, voglio essere sincero, né soffersi. Mio suocero s'associò a lui con grande energia, ma le sue parole non arrivavano a gettare un disprezzo sul malato immaginario, perché tradivano troppo chiaramente l'invidia per il sano. Disse che se egli fosse stato sano come me, invece di seccare il prossimo con le lamentele, sarebbe corso ai suoi cari e buoni affari, specie ora che gli era riuscito di diminuire la sua pancia. Egli non sapeva neppure che il suo dimagrimento non veniva considerato come un sintomo favorevole. Causa l'assalto del Copler, io avevo veramente l'aspetto di un malato, e di un malato maltrattato. Augusta sentì il bisogno di intervenire in mio soccorso. Carezzando la mano che avevo abbandonata sul tavolo, essa disse che la mia malattia non disturbava nessuno, e che ella non era neppur convinta che io credessi d'essere ammalato, perché altrimenti non avrei avuto tanta gioia di vivere. Così il Copler ritornò allo stato di inferiorità cui era condannato. Egli era del tutto solo a questo mondo, e se poteva lottare con me in fatto di salute, non poteva contrappormi alcun affetto simile a quello che Augusta m'offriva. Sentendo vivo il bisogno di un'infermiera, si rassegnò di confessarmi più tardi quanto egli m'aveva invidiato per questo. La discussione continuò nei giorni seguenti con un tono più calmo, mentre Giovanni dormiva in giardino. E il Copler, dopo averci pensato su, asseriva ora che il malato immaginario era un malato reale, ma più intimamente di questi, ed anche più radicalmente. Infatti i suoi nervi erano ridotti così da accusare una malattia quando non c'era, mentre la loro funzione normale sarebbe consistita nell'allarmare col dolore e indurre a correre al riparo. — Sì, dicevo io, come ai denti, dove il dolore si manifesta solo quando il nervo è scoperto, e per la guarigione occorre la sua distruzione. Si terminò col trovarsi d'accordo sul fatto che un malato e l'altro si valevano. Proprio nella sua nefrite era mancato e mancava tuttavia un avviso dei nervi, mentre che i miei nervi, invece, erano forse tanto sensibili da avvisarmi della malattia di cui sarei morto qualche ventennio più tardi. Erano dunque dei nervi perfetti, e avevano l'unico svantaggio di concedermi pochi giorni lieti a questo mondo. Essendogli riuscito a mettermi fra gli ammalati, il copler fu soddisfattissimo. Non so perché il povero malato avesse la mania di parlare di donne, e quando non c'era mia moglie non si parlava d'altro. Egli pretendeva che dal malato reale, almeno nelle malattie che noi sapevamo, il sesso s'affievolisse, ciò che era una buona difesa dell'organismo, mentre dal malato immaginario che non soffriva che pel disordine di nervi troppo laboriosi, questa era la nostra diagnosi, esso fosse patologicamente vivo. Io corroborai la sua teoria con la mia esperienza, e ci compiangemmo reciprocamente. Ignoro perché non vogli dirgli che io mi trovavo lontano da ogni sregolatezza, e ciò da lungo tempo. Avrei almeno potuto confessare che mi ritenevo convalescente, se non sano, per non offenderlo troppo, e perché dirsi sano quando si conoscono tutte le complicazioni del nostro organismo è una cosa difficile. —Tu desideri tutte le donne belle che vedi? inquisi ancora il copler. —Non tutte. —mormorai io per dirgli che non ero tanto malato. Intanto io non desideravo Ada, che vedevo ogni sera. Quella per me era proprio la donna proibita. Il fruscio delle sue gonne non mi diceva niente. E se mi fosse stato permesso di muoverle con le mie stesse mani, sarebbe stata la stessa cosa. Per fortuna non l'avevo sposata. Quella indifferenza era, o mi sembrava, una manifestazione di salute genuina. Forse il mio desiderio per lei era stato tanto violento da esaurirsi da sé. Però la mia indifferenza si estendeva anche ad Alberta, che era pur tanto carina nel suo vestitino accurato e serio da scuola. Che il possesso di Augusta fosse stato sufficiente a calmare il mio desiderio per tutta la famiglia Malfenti? Ciò sarebbe stato davvero molto morale. Forse non parlai della mia virtù, perché nel pensiero io tradivo sempre Augusta. E anche ora, parlando col Copler, con un fremito di desiderio pensai a tutte le donne che per lei trascuravo. Pensai alle donne che correvano le vie, tutte coperte, e dalle quali perciò gli organi sessuali secondari divenivano tanto importanti, mentre dalla donna che si possedeva scomparivano come se il possesso li avesse atrofizzati. Avevo sempre vivo il desiderio dell'avventura. Quell'avventura che cominciava dall'ammirazione di uno stivaletto, di un guanto, di una gonna, di tutto quello che copre e altera la forma. Ma questo desiderio non era ancora una colpa. Il Copler, però, non faceva bene ad analizzarmi. Spiegare a qualcuno come è fatto è un modo per autorizzarlo ad agire come desidera. Ma il Copler fece anche di peggio. Solo che tanto quando parlò come quando agì, egli non poteva prevedere dove mi avrebbe condotto. Resta così importante nel mio ricordo la parola del Copler, che quando la ricordo essa rievoca tutte le sensazioni che vi si associarono, e le cose, e le persone. Avevo accompagnato in giardino il mio amico, che doveva rincasare prima del tramonto. Dalla mia villa, che giace su una collina, si aveva la vista del porto e del mare, vista che ora è intercettata da nuovi fabbricati. Ci fermammo a guardare lungamente il mare, mosso da una brezza leggera, che rimandava in miriadi di luci rosse la luce tranquilla del cielo. La penisola istriana dava riposo all'occhio con la sua mitezza verde, che si inoltrava in arco enorme nel mare come una penombra solida. I moli e le dighe erano piccoli e insignificanti nelle loro forme rigidamente lineari, e l'acqua nei bacini era oscurata dalla sua immobilità. O era forse torbida? Nel vasto panorama la pace era piccola in confronto a tutto quel rosso animato sull'acqua, e noi, abbacenati, dopo poco volgemmo la schiena al mare. Sulla piccola spianata dinanzi alla casa incombeva in confronto già la notte. Dinanzi al portico, su una grande poltrona, il capo coperto da un berretto e anche protetto dal bavero rialzato della pelliccia, le gambe avvolte in una coperta, mio suocero dormiva. Ci fermammo a guardarlo. Aveva la bocca spalancata, la mascella inferiore pendente come una cosa morta, e la respirazione rumorosa e troppo frequente. Ad ogni tratto la sua testa ricadeva sul petto, ed egli, senza destarsi, la rialzava. C'era allora un movimento delle sue palpebre, come se avesse voluto aprire gli occhi per ritrovare più facilmente l'equilibrio, e la sua respirazione cambiava di ritmo. Una vera interruzione del sonno. Era la prima volta che la grave malattia di mio suocero mi si presentasse con tanta evidenza, e ne fui profondamente addolorato. Il Coppler, a bassa voce, mi disse. Bisognerebbe curarlo. Probabilmente è ammalato anche di nefrite. Il suo non è un sonno. Io so che cosa sia quello stato. Povero diavolo! Terminò consigliando di chiamare il suo medico. Giovanni ci sentì e ha perso gli occhi. Parve subito meno malato, e scherzò con Coppler. —Lei s'attenta di stare all'aria aperta? Non le farà male? Gli sembrava di aver dormito saporitamente, e non pensava di aver avuto mancanza d'aria in faccia al vasto mare che gliene mandava tanta. Ma la sua voce era fioca e la sua parola interrotta dal lanzare. Aveva la faccia terrea, e levatosi dalla poltrona si sentiva ghiacciare. Dovette rifugiarsi in casa. Lo vedo ancora muoversi traverso la spianata, la coperta sotto il braccio, ansante ma ridendo, mentre ci mandava il suo saluto. —Vedi com'è fatto l'ammalato reale? disse il Coppler, che non sapeva liberarsi dalla sua idea dominante. È moribondo e non sa d'essere ammalato. Parve anche a me che l'ammalato reale soffrisse poco. Mio suocero e anche il Coppler riposano da molti anni a Sant'Anna, ma ci fu un giorno in cui passai accanto alle loro tombe, e mi parve che per il fatto di trovarsi da tanti anni sotto alle loro pietre, la tesi propugnata da uno di loro non fosse infirmata. Prima di lasciare il suo antico domicilio, il Coppler aveva liquidato i suoi affari, e perciò, come me, non ne aveva affatto. Però, non appena lasciato il letto, non seppe restare tranquillo, e, mancando di affari propri, cominciò ad occuparsi di quelli degli altri, che gli parevano molto più interessanti. Ne risi allora, ma più tardi anch'io dovevo apprendere quale sapore gradevole avessero gli affari altrui. Egli si dedicava alla beneficenza, ed essendosi proposto di vivere dei soli interessi del suo capitale, non poteva concedersi il lusso di farla tutta a spese proprie, perciò organizzava delle collette e tassava amici e conoscenti. Registrava tutto da quel bravo uomo d'affari che era, ed io pensai che quel libro fosse il suo viatico, e che io, nel caso suo, condannato a breve vita e privo di famiglia come egli era, l'avrei arricchito intaccando il mio capitale. Ma egli era il sano immaginario, e non toccava che gli interessi che gli spettavano, non sapendo rassegnarsi di ammettere breve il futuro. Un giorno mi assalì con la richiesta di alcune centinaia di corone per procurare un pianino ad una povera fanciulla, la quale veniva già sovvenzionata da me insieme ad altri per suo mezzo con un piccolo mensile. Bisognava far presto per approfittare di una buona occasione. Non seppi esimermi, ma a un po' di malagrazia osservai che avrei fatto un buon affare se quel giorno non fossi uscito di casa. Io sono, di tempo in tempo, soggetto ad accessi di avarizia. Il copler prese il denaro, e se ne andò con una breve parola di ringraziamento. Ma l'effetto delle mie parole si vide pochi giorni appresso, e fu purtroppo importante. Egli venne ad informarmi che il pianino era a posto, e che la signorina Carla Gerco e sua madre mi pregavano di andare a trovarle per ringraziarmi. Il copler aveva paura di perdere il cliente, e voleva legarmi, facendomi assaporare la riconoscenza delle beneficate. Dapprima voglio esimermi da quella noia, assicurandolo che ero convinto che gli sapesse fare la beneficenza più accorta, ma insistette tanto che finì con l'accondiscendere. — È bella? domandai ridendo. — Bellissima! egli rispose. — Ma non è pane per i nostri denti. Curiosa cosa che egli mettesse i miei denti assieme ai suoi, col pericolo di comunicarmi la sua carie. Mi raccontò dell'onestà di quella famiglia disgraziata, che aveva perduto da qualche anno il suo capo di casa, e che nella più squale da miseria era vissuta nella più rigida onestà. Segue Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.